Per confondermi con Fabri Figa, io non porto sfiga, non sono un bugio e non volevo fare giornalista Una volta ero all'aeroporto, facevo la cosa per il biglietto e arriva una persona e mi fa Bella fibra, spacca Badabun Ciaccia E gli ho detto guarda che non è mia Badabun Ciaccia, è di Marrakesh Ciaccia